Siamo nel 403 a.C. ad Atene. La città è da poco uscita dalla guerra del Peloponneso e da poco è caduto il governo tirannico, grazie all'intervento di Trasibulo che guida gli esuli democratici ad Atene. Gli esuli democratici vengono identificati come quelli del Pireo, contrapposti invece ai conniventi della tirannide, ovvero quelli della città. La caduta del governo tirannico porta con sé due conseguenze, come riappacificare i partiti opposti e come sostituire il governo. Alla prima Trasibulo pone rimedio proponendo una legge di riconciliazione, la seconda è ben più complessa perché durante gli anni della guerra la vera democrazia teniese era entrata in crisi, tanto è vero che alcuni cittadini propongono una democrazia limitata in cui esclusivamente i ricchi hanno pieni poteri politici. Il discorso che abbiamo letto è un'orazione scritta da Lisia per un uomo politico che si oppone a questa democrazia limitata. Scrivere discorsi per terzi significa fare uno studio del testo molto accurato, in particolare studiare lo stile, il lessico, in modo tale che si adattino a chi lo pronuncia, quindi alla sua personalità e al suo livello culturale, in modo tale da risultare naturali e non artificiosi. Il testo è ricco di figure retoriche e l'argomentazione è basata sull'antitesi tra la gloria passata di Atene, dell'Atene democratica, e invece le sofferenze dell'Atene tirannica. Vi è un invito a resistere facendo affidamento agli dèi, anche perché in questo periodo di crisi l'unica cosa che rimane ad Atene e l'unica causa per cui vale la pena lottare è la democrazia vera e propria, anche perché gli spartani non comprometterebbero di certo la loro egemonia per questioni non decisive. Ci immaginavamo, o Atenesi, che le sciagure piombate su di noi avessero così segnato la città da levare anche ai nostri discendenti il desiderio di mutare la Costituzione. Ed ecco che questa gente si fa avanti per cercare, dopo le nostre sofferenze e la nostra esperienza dei due sistemi, di ingannarci con gli stessi decreti con cui l'ha fatto già due volte. Io non mi stupisco di loro, ma di voi che prestate loro ascolto. Certo il passato è caduto nel più profondo oblio se siete disposti più di chiunque a lasciarvi perseguitare da individui che il caso solo ha mescolato alle operazioni del Pireo, mentre nel loro intimo erano con quelli della città. Non valeva proprio la pena che rientrasse dall'esilio per decretarvi l'asservimento da voi, coi vostri voti. Vedo l'unica salvezza dello Stato nella partecipazione di tutti gli Atenesi alle attività politiche. Come? Quando avevamo navi, ricchezze ed alleati, lungi dall'allontanare dal governo qualche Atenese, accordavamo il diritto del legittimo matrimonio e gli abitanti di Obea. Ora escluderemo dalla città chi ne fa parte. No, no certo. Non ci priveremo dopo la perdita delle nostre navi e delle nostre mura anche di questa difesa, di questa folla di opliti, cavalieri ed arcieri. Io mi domando che guadagno avrà il popolo se obbediremo agli ordini degli spartani. Resistiamo! È molto più nobile cadere combattendo che mettere proprio noi un decreto che segna apertamente la nostra condanna a morte. Quanto più è prospera la situazione degli spartani, tanto meno desiderano comprometterla. Questo era anche il nostro punto di vista al tempo della nostra egemonia. Ma oggi, oggi, che la disfatta ci ha privato di ogni vantaggio e l'unica cosa che ci resta è la patria, sappiamo che solo accettando questo rischio abbiamo una speranza di salvezza. Mostriamoci uomini di valore per la causa del paese e la nostra. Occorre confidare negli dèi, essere ancora convinti che la giustizia sia dalla parte degli offesi.